Allora in questo territorio siamo costretti ogni volta a parlare di un diritto fondamentale che è quello alla sanità, alle cure. Cosa ci dice la CGL? Che i territori sono stati abbandonati sia sotto il profilo della rete ospedaliera sia sotto il profilo della medicina territoriale perché in questo momento non c'è una visione di contesto rispetto alle esigenze dei cittadini e del malato ma c'è un continuo rimbalzo di responsabilità che tra il governo nazionale e il commissariamento della sanità sta di fatto depauperando il sistema sanitario. Stiamo notando che c'è un avanzamento progressivo della sanità privata in Calabria quindi quello che in qualche modo ci viene, di cui siamo preoccupati è questo tentativo silente da parte del governo nazionale con il commissariamento della sanità di non assumere i medici infermieri per favorire eventualmente la sanità privata. Il sistema degli accreditamenti sta andando avanti e ci dicono anche che loro stanno abbattendo le liste d'attesa. Le liste d'attesa si devono abbattere nella sanità pubblica, non con la sanità privata che deve essere in aggiunta al sistema pubblico. Quello che ci preoccupa è che non si fa nulla per creare le performance della sanità pubblica mentre vediamo un avanzamento della sanità privata che si sta sostituendo il pubblico. Domanda, c'è un tentativo da parte del governo nazionale e del commissariamento della sanità a fare in modo che la sanità privata possa avanzare anche nella nostra regione? La risposta secondo noi credo che bisogna che i cittadini se la facciano perché riteniamo che ci siano condizioni per cui con l'alibi del malfunzionamento della sanità pubblica si sta dirottando tutto nella sanità privata. Liste d'attesa, diagnostica e anche cure e assistenza alle persone. Così non va bene e noi siamo in piazza per denunciare queste cose. Eppure stiamo parlando di un ospedale che serve un territorio molto vasto come quello del Crotonese. Gli ospedali devono essere baricentrici, devono essere quelli che garantiscono il sistema della sanità pubblica ai cittadini. Invece si stanno depauperando, non si assumono medici e infermieri e si stanno depauperando anche da un punto di vista della diagnostica ma anche da un punto di vista della strumentazione diagnostica perché gli ospedali sono quelli che non hanno più ormai servizi di diagnostica efficaci perché anche il sistema della strumentazione è stato bloccato. Cioè questo governo blocca gli strumenti per la diagnostica che nel frattempo aumenta nella sanità privata così sta costringendo le persone a non rivolgersi più agli ospedali che tra l'altro hanno una faticenza sia dal punto di vista infrastrutturale ma sia come carenza di medici e infermieri spostando tutta nella sanità privata. Ci sono tutte le condizioni per cui si può capire che c'è un disegno pianificato a vantaggio della sanità privata, del governo anziché quella pubblica. Io le chiedo, secondo lei qual è il futuro di questo ospedale? Se continua così è chiaro che gli ospedali continueranno ad essere depauperati quindi non bastano i medici cubani bisogna investire sulla strumentazione, sulla tecnologia ma soprattutto sulle competenze e noi sappiamo che ci sono medici personale competente bisogna fare le assunzioni di medici e infermieri perché ne mancano almeno 2.500 e per fare questo occorre anche un'incentivazione che bisogna dare ai professionisti perché non si può continuare a perdere i nostri cervelli e le nostre competenze che vanno fuori dalla regione che vanno nel privato.